Voi iniziare questo video raccontandovi una piccola favola, una piccola storia. C'era una volta il tifoso romanista. Il tifoso romanista, nonostante le sconfitte della propria squadra, nonostante i pochi trofei della propria squadra, sosteneva sempre i propri colori, andava sempre allo stadio, applaudiva sempre i suoi beniamini, li difendeva da tutto e tutti, li difendeva dalle offese di tantissime altre persone che li criticavano proprio perché non vincevano niente. Le uniche persone che invece difendevano questa squadra erano appunto i propri tifosi. Purtroppo ormai i tifosi romanisti non esistono più. Esistono soltanto quei tifosi che si mettono a criticare e a rompere i coglioni ogni volta che succede una minima cosa negativa. Torniamo al presente, torniamo al 12 agosto 2017. La Roma ha da poco perso con il Sevilla, una amichevole che senza nessuna vittoria a parte dello storico trofeo Puerta, un'amichevole fatta con una squadra di buon valore, ma nonostante questo il tifoso romanista non è contento. La squadra ha perso per 2-1, ma all'improvviso il portiere è diventato uno scarpone, la difesa è diventata con la brodo, il centrocampo non ha una direzione e l'attacco è troppo sfaldato con giocatori fuori ruolo. Questa è diventata l'analisi generale dei tifosi della Roma dopo un'amichevole di agosto. All'improvviso il calciomercato è diventato un fallimento, all'improvviso il DS si deve dimettere, all'improvviso il presidente è un fanullone e l'allenatore deve essere esonerato fin da subito, perché se tu perdi un'amichevole estiva, se tu perdi delle amichevole estive, meriti di essere esonerato, perché un bravo allenatore deve vincere ogni partita, anche quello con il pordenone e la procaccolese. Quelle partite le deve vincere, perché se perde quelle partite, allora in campionato farà sicuramente peggio. Questo è il pensiero che molti tifosi romanisti hanno in questo momento, e quindi se la Roma ha perso con la quarta forza spagnola per 2-1 un'amichevole estiva, allora sicuramente è tutto negativo. Questa è la storia in sintesi, il cambiamento del tifoso romanista che ha passato dall'ammirare la propria squadra e difenderla da tutti a essere il primo a criticarla ad ogni minimo episodio negativo. Finita la storia, adesso vi dico la mia opinione. Ci può stare criticare alcune cose della partita di ieri? Assolutamente. Ci può stare dire che la Roma poteva giocare un po' meglio, che poteva stare attenta in difesa, che alcuni gol sono colpa del portiere, ci mancherebbe. Però perché? Si deve passare dal giudicare un singolo episodio di una partita, dei 90 minuti di una partita, al giudicare tutto quello che sarà la prossima stagione. Questo è l'atteggiamento che io non capisco veramente da ogni tifoso della Roma, dalla maggior parte dei tifosi della Roma. Non si limitano a giudicare i 90 minuti che hanno visto, ma di sicuro, se Alisson ha fatto un errore in quella partita, lo farà sicuramente in tutte le altre partite di campionato. Giacomo è stato un po' sottotono, di sicuro non rifarà mai la stessa stagione di qualche mese fa, e da in gol anno non è stato molto preciso, e ormai non riesce più a ritrovare il proprio ruolo, non riesce più ad ad adattarsi nel 4-3-3, ormai abbiamo perso la possibilità di dare via un giocatore così tanti soldi, e abbiamo fatto un fallimento. Emma De Frey ha giocato sottotono, ma che l'abbiamo preso a fare, un giocatore ridicolo, 20 milioni buttati. Questo è il tifoso romanista moderno, il tifoso romanista che si fa condizionare dalle radio e dalle opinioni di alcuni mentecatti. Un tifoso che vede tutto negativo, e tutte le cose negative che vede le allunga a tutta la stagione. Questa non è solo colpa della mediocrità del carattere di questi tifosi, ma anche dei giornali e dei giornalisti che non fanno altro che marciare sopra la Roma. E più la Roma va male, più loro ci godono. Mi viene in mente Sport Mediaset, per esempio, mi viene in mente proprio Sport Mediaset, con quel barbone di Bargigia che non fa altro che denigrare l'ambiente giallorosso dicendo peste e corna sui giocatori e la dirigenza. Pensate che qualche giorno fa ha detto che Nainggolan era sicuro all'Inter, ma Monce avrebbe rassegnato le dimissioni dopo un mese che è arrivato, eh, tra parentesi, se il giocatore se ne fosse andato. Che la Roma sta valutando Strootman perché deve rientrare di bilancio, perché gli mancano i soldi, ha delle debolezze finanziarie, ma ragazzi, veramente, allora, cerchiamo di non farci condizionare da questi giornali. Dopo ci credo che la squadra, quando sente meno la fiducia dei propri tifosi, comincia a giocare male. Noi gliela togliamo ancora prima di dimostrarlo. E ci credo che allora dopo si lamentano. Allora, i tifosi del Bayern Monaco devono disertare tutti lo stadio, devono strappare l'abbonamento, perché di 8 amichevoli che hanno giocato, non hanno vinto a 1 e perse 6. Allora, il Bayern Monaco, dopo questa prestagione, dovrebbero mandare i via Ancelotti, Lewandowski, Ribéry, eccetera, eccetera, perché hanno fatto un prestagione negativo. E questo è quello che non capisco. Poi parlassimo di prestagione così negativa, manco avessimo perso 7-0 col Siviglia, 5-0 con la Juve, 8-1 col Paris Saint-Hermain, l'unica partita che abbiamo vinto sul campo è stata appunto col Siviglia, mentre le altre due le abbiamo perso ai rigori, per farvi capire. E nonostante questo, viene tutta questa negatività nell'ambiente e vinceremo niente, di Francesca è mediocre, fa schifo, è la squadra fatta male, i titolari fanno schifo, non ci rispetta nessuno, l'estero non ci rispetta, oh ragazzi, ma state più sereni, la vita è una sola, ma godete, però invece te lamentavo di qualsiasi cosa, porca miseria. Dopo mi sale il nervoso, mi sale il nervoso, perché dopo se la squadra va male, godono, sono contenti, io ve l'avevo detto, io che andava male, ve l'avevo detto che di Francesco va male, io sono sicuro che questa gente, se di Francesco va male, viene su un lato, sono contenti, sono contenti perché hanno dimostrato che la loro negatività era giusta, e che il loro pensiero negativo era giusto, non è che sperano che magari faccia bene, così da smentire il loro pronostico, no, sperano che faccia male, così almeno possono dire, io lo avevo detto. Questo è il tifoso romanista 2.0, ed è per questo che io voglio discostarmi assolutamente da questo pensiero, e dare la mia assoluta fiducia ad ogni singolo giocatore, al dirigente, all'allenatore, e a tutta la squadra in toto, perché la Roma non si critica a prescindere, ma si ama, si tifa con tutto il proprio cuore, non siamo dei tifosi che sono abituati a vincere fior fiori di trofei, e allora se una squadra non va così bene, ci tocca per forza lamentà, siamo una squadra che ha vinto tre scudetti in 90 anni, se perdiamo qualche amichevole prestagionale, vorrà dire che falliremo, oppure ci può stare, visto che la squadra deve ancora trovare l'amalgama? Provate a rispondere a questa domanda, non tanto vi saluto, perché veramente se continuo a parlare veramente non finisco più, ci vediamo presto per un altro video, fatemi sapere voi che ne pensate, un saluto e sempre forza Roma, ciao ragazzi! Musica 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 Grazie a tutti.